Chiedono di coinvolgere i cittadini nel progetto di riqualificazione di Sant'Orsola nel timore che chiunque vinca il bando con cui la provincia affiderà la valorizzazione del complesso non ne rispetti il valore urbanistico ambientale. Sono una decina le associazioni che in accordo con la parrocchia insistono perché a tutela dell'interesse dei cittadini che da anni convivono con l'ex convento assurto suo malgrado a simbolo del degrado del quartiere, il bando comprende alcuni requisiti. L'uso e il fatto che restino pubblici tutta una serie di spazi, in particolare le corte interne del complesso. Secondo, che il percorso progettuale venga accompagnato da un percorso di partecipazione che veda il quartiere coinvolto nel farsi del processo delle scelte. Terzo, che i progetti che vengono presentati, se verranno presentati, siano accompagnati da un processo di certificazione ambientale attraverso degli schemi e dei codici di carattere internazionale che oramai tutta l'Europa usa. Quarto, che il cantiere sia aperto. Ultima questione assai rilevante che poniamo da molto tempo è quella che comunque bisogna aprire Sant'Orsola, bisogna entrarci, bisogna continuare ad entrarci dentro come abbiamo fatto recentemente con molte visite. Questo significa dare la possibilità all'associazione, ai quartieri, ai giovani, a tutta una serie di soggetti che sono pronti, che si candidano a fare questo tipo di attività, ad utilizzare alcuni spazi, anche se non finiti, anche se non recuperati, in modo tale che il quartiere cominci ad entrare dentro Sant'Orsola.